Buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione su Telebari e Radiobari da Barbara Cirillo. In primo piano sale la febbre Ahmad Nordin, il magnate malese che ha acquisito il 50% delle quote della società bianco-rossa. Questa mattina ha fatto la sua prima visita ufficiale a Palazzo di Città per incontrare il sindaco. Vediamo com'è andata. Mr. Nordin, would you say anything to Barri supporters? Would you say anything to Barri supporters? Thank you to Barri supporters. What are your plans for your love? You are happy to be here? Yes indeed, yes indeed. Do you visit something in Barri? Not quite yet. I hope maybe these few days, yeah, these few days I'd like to see Barri. Only last night I went to the piazza, what is the name of the place yesterday? Piazza del Ferrares. Beautiful. Are you ready for the Barri? Well, I see. Of course I am. If not, I'm not here. But are you ready to sign? C'è la conferenza? E' pronto per firmare? Ok, andiamo su, andiamo da sin. Everyone hopes that you invest in Barri and in the society. Yes, I will. Yes, I will. Quindi vuole investire nella squadra e nella squadra e nella squadra e nella città? Definitely, definitely, definitely. E vi ricordiamo che questo pomeriggio a partire dalle 17.30 si terrà la conferenza stampa, la prima ufficiale di Ahmed Nordin. Noi la seguiremo in diretta per voi sia sui nostri canali che anche in diretta streaming sul sito www.telebari.it oppure potete anche seguirla sulla nostra app per smartphone Telebari. Cambiamo ora argomento. Se non vi iscrivete in questa scuola non parteciperete alla gita. In apertura parliamo dello strano caso dell'istituto comprensivo Barilla-Imbriani dove un gruppo di bambini di quinta elementare non potrà accedere alla gita scolastica per via del trasferimento per le medie in altra sede. E già si parla di discriminazione. Ci dice tutto Serena Russo. Il succo del messaggio è questo. I bambini di quinta elementare che non si iscrivono nello stesso istituto comprensivo non potranno partecipare alla gita scolastica. Suona un po' come una discriminazione. Secondo la consigliera di opposizione Irma Melini quello che sta accadendo in questi giorni è nell'istituto Barilla-Imbriani al quartiere Madonnella. La denuncia parte da un gruppo di genitori i cui figli non proseguiranno il percorso di studi nella stessa scuola e pertanto esclusi dal progetto il prossimo 21 aprile. Una discriminazione è questa, scrive la consigliera che elede lo stesso diritto allo studio garantito dagli articoli della Costituzione. Se non cambierà questa indicazione purtroppo all'interno di una stessa classe ci saranno bambini che non potranno accedere alla gita. Si difende la dirigente dell'istituto Mazzei che spiega il progetto è organizzato dai professori delle scuole medie ed è stato pensato per garantire continuità a chi sceglie di proseguire nell'istituto Imbriani. Una giustificazione è questa però che non convince neanche l'assessore alle politiche giovanili Paola Romano che invita la preside a fare un passo indietro. È chiaro che è un peccato non far partecipare alla stessa esperienza anche coloro i quali non avranno poi quella insegnante di scuole medie o non avranno quella struttura. Quindi penso che sia opportuno estendere a tutti gli studenti sia coloro i quali saranno iscritti alla scuola Imbriani sia coloro i quali non saranno iscritti alla scuola Imbriani perché i genitori sono liberi di scrivere i figli nella scuola che preferiscono a tutti quanti. Sullo sfondo ancora la polemica sul cambio di nome dell'istituto. Le consiglieri Melini e Mercurio hanno già raccolto 1100 firme. E ora passiamo alla cronaca. Un cittadino di nazionalità somala di 33 anni già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di rapina aggravata e lesioni personali. Armato con coltello a serramanico ha rapinato il borsello a un algerino di 37 anni. È successo nella centrale Piazza Moro nei pressi della stazione centrale di Bari. Sono stati alcuni cittadini a notare la lite tra i due e a chiamare il 112. Giunti sul posto, i militari assieme alla vittima della rapina sono riusciti a bloccare il somalo arrestandolo a seguito della colluttazione. Sia l'aggressore che la vittima hanno riportato lesioni giudicate guaribili in una decina di giorni dal personale del pronto soccorso del policlinico. 14 imprenditori pugliesi denunciati e 10.000 quintali di semola sequestrata. L'indagine è stata diretta dalla procura di Trani e ha visto impegnati gli uomini del corpo forestale dello Stato della Puglia. Sono stati ritrovati pasta, pane e merende destinate ai pasti nelle scuole con bimbi dei 2 ai 3 anni con livelli di piombo superiori ai limiti consentiti. Micotossine presenti in due formati di pasta indirizzati all'alimentazione dei più piccoli. Infine, su più di un terzo del pane di semola di grano duro campionato è stato rilevato il superamento dei limiti delle micotossine di metalli pesanti previsti per i bimbi fino a tre anni. Le accuse sono di frode nell'esercizio del commercio e somministrazione di sostanze alterate. Parliamo adesso del piano paesagistico. I conservatori e riformisti chiedono la proroga dell'adeguamento. Il 95% dei comuni pugliesi infatti non ha rispettato i termini di scadenza e arriva il monito del capogruppo Zullo che Emiliano la smetta di fare, l'accentratore. Sentiamo. Abbiamo chiesto ad Emiliano una cosa molto semplice attuare l'indirizzo del Consiglio sulla proroga dei termini di adeguamento degli strumenti urbanistici dei comuni al PPTR, cioè al piano paesagistico, perché la Puglia è ferma. Ecco cosa è successo. Entro il 23 marzo tutti i comuni pugliesi avrebbero dovuto adeguarsi al piano paesagistico secondo quanto previsto dalla legge regionale. Solo il 5% però ha rispettato i termini. Ciò significa che, per ogni intervento, anche il più piccolo, ciascun cittadino, ciascuna ditta, dovrà fare riferimento non più al comune di appartenenza, bensì all'ufficio di competenza regionale. Andrà fatta, infatti, una richiesta di un nulla osta paesagistico, un allungamento delle procedure burocratiche che, secondo il gruppo conservatori e riformisti al Consiglio regionale, si tradurrebbe in uno stallo su tutto il territorio, dal punto di vista urbanistico e paesagistico. L'unica soluzione sarebbe una proroga sul termine dell'adeguamento. Il Consiglio si è espresso, ha detto chiaramente ad Emiliano, va prorogato, anche perché in linea con le indicazioni del codice del paesaggio, non capiamo perché Emiliano non dia seguito all'indirizzo del Consiglio, che è un'aberrazione in una democrazia. Emiliano deve smetterla di essere un accentratore, rincara Zullo, e impegnato nella sua scalata per una leadership nazionale, oltre che con la sua battaglia contro Renzi, esattamente come Vendola, con un'unica differenza. Mentre Vendola aveva un'aggiunta forte, nel senso che delegava le questioni ai suoi assessori, concedeva a loro ampi margini di autonomia decisionale, di iniziativa, invece Emiliano accentra tutto, non permette agli assessori di poter affrontare i problemi, e vengono smentiti continuamente in aula. Francesco Boccia presenta Digiton alla stampa estera, sbanca oltre i confini nazionali, la quattro giorni che il presidente della Commissione Bilancio ha voluto lanciare per fare della Puglia la Silicon Valley italiana. Fino al 30 aprile, lo ricordiamo, è aperta la call per la selezione delle 100 start-up digitali che si confronteranno durante l'hackathon che si svolgerà in terra pugliese dal 24 al 25 giugno. Tanti grandi investitori nazionali e internazionali che parteciperanno al Digiton che invece avrà luogo dal 23 al 26 giugno prossimi. Tutte le informazioni sul sito www.digiton.it Presentati i tre finalisti del premio saggistica politica Pinuccio Tatarella, sentiamo chi sono. Franco Cardini con il suo L'ipocrisia d'Occidente, Pierluigi Battista, con mio padre era fascista, Giovanni Valentini la scossa perché l'Italia non ha più scuse. Sono questi i nomi dei tre finalisti della prima edizione del premio di saggistica politica Pinuccio Tatarella istituito dal comune di Bari lo scorso dicembre. Il 22 maggio al Teatro Petruzzelli sarà decretato il vincitore. Un premio giovane ma già si pensa di farne un vero e proprio festival? Sì, un premio letterario legato all'idea che la saggistica politica non abbia mai avuto un vero premio in Italia. La saggistica politica è importantissima perché consente alla classe dirigente del paese di riflettere e di interrogarsi sui grandi temi del tempo presente e anche ovviamente del tempo futuro. Per cui l'idea che noi abbiamo è che questa sia la prima edizione che riprenda il vecchio premio Tatarella dedicandogli come sarebbe stato opportuno fare sin dall'inizio un premio per la saggistica politica perché gli invita è stato uno statista e quindi come tale era giusto sin dall'inizio dedicargli un premio letterario legato alla saggistica politica ma che alluda l'idea di avere nei prossimi anni un vero e proprio festival della politica cioè un momento, un luogo e un momento, Bari in cui i più importanti pensatori del tempo presente si interroghino sugli scenari contemporanei e futuri. Beppe Grillo rimanda i suoi spettacoli in Puglia in segno di rispetto verso l'amico Gianroberto Casaleggio scomparso solo pochi giorni fa. Lo show Grillo vs Grillo previsto per questo sabato 16 aprile al Teatro Team è stato rimandato al prossimo 12 maggio i biglietti acquistati informano gli organizzatori in una nota restano validi per le nuove date chiunque volesse potrà richiedere rimborso presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto entro e non oltre il 27 aprile del 2016. Con l'arrivo della stagione estiva nasce a Bari il gelato sospeso vediamo di cosa si tratta nel nostro servizio. 1,50 e un gelato sospeso. Bene. Parente del più noto caffè sospeso approda Bari il gelato sospeso l'idea è del mastro gelatiere Francesco Gennaccaro calabrese d'origine ma barese ormai d'adozione. Insieme al consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Davide De Lucia ha pensato bene con l'approssimarsi delle alte temperature di dare il via a un'iniziativa di solidarietà diffusa in altre città d'Italia ma mai sperimentata a Bari. Si entra in negozio, si acquista un gelato per sé e se ne compra uno da lasciare in sospeso per tutti coloro che non hanno la possibilità di permetterselo. Insomma una solidarietà per tutti i gusti. Io faccio gelato artigianale classico sia senza lattosio che senza latte e ovviamente se incontriamo il gusto delle persone vuol dire che è buono altrimenti no, insomma il gelato lo decide chi lo mangia se è buono. E per questa edizione è tutto, in chiusura come di consueto vi ricordo i nostri siti internet telebari.it, radiobari.net e per tutte le vostre segnalazioni il nostro indirizzo di posta dedicato infochioccio del segnodizorro.it e ora vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito. Un saluto e un ben ritrovati con trabimeteo.com Vediamo la situazione per giovedì quando un campo di alta pressione interesserà ancora buona parte del Mediterraneo con ampi spazi di cielo sereno e clima tipicamente primaverile una nuova perturbazione invece interesserà la Francia, l'Inghilterra, i paesi bassi con molte nubi e qualche precipitazione. Vediamo la situazione sulla nostra penisola dove appunto un anticiclone sub-tropicale interesserà buona parte delle nostre regioni con ampi spazi di cielo sereno con valori termici che durante il pomeriggio raggiungeranno appunto fino a 22-23 gradi. E' un'occhiata al sud Italia, alta pressione, tempo stabile con ampi spazi di cielo sereno non solo sulle due isole maggiori ma anche tutte le regioni peninsulari ventilazione debole anche tutto, mari poco mossi. Con questo per il meteo è tutto, aggiornamenti come sempre scaricando l'alto gratuita di 3bmeteo.com Grazie a tutti!